Il monitoraggio sottobarino senza l'utilizzo di cavi è diventato la chiave per acquisire big data in tempo reale, per conoscere gli effetti di cambiamento climatico, per comunicare sott'acqua e monitorare i migliori di asset che sono immersi e vitali per la nostra esistenza. Questo nuovo paradigma tecnologico della Blue Economy è chiamato Internet of Aller Water Things e ci si stanno avvicinando molti settori industriali e istituzionali che lavorano nelle energie rinnovabili, nelle telecomunicazioni, nelle infrastrutture offshore, l'acquacultura e nella gestione del patrimonio archeologico e marino. QSense è pioniera di reti guardie sottomarine ed è una società tip-tech italiana specializzata in soluzioni chiave in mano e di monitoraggio alla comunicazione sul bagno senza fili. Il nostro progetto Greta è tra i vincitori della Call for Innovation lo sport della Blue Economy promossa dalla Genova Blue District, dal comune di Genova, dall'Ocean Race e con il sostegno della fondazione e compagnia di San Paolo. Vi aspettiamo dal 24 giugno al 2 luglio presso l'Innovation Village del Ocean Life Park di Genova per scoprire le nostre esperienze immersive, tra le quali avrete la possibilità di visualizzare un nuovo grafico in 3D che spiega come avviene la comunicazione sott'acqua, potete simulare una chat tra sub utilizzando tablet equipaggiati nei nostri sistemi e infine avrete la possibilità di osservare i dati di temporale e di monitoraggio ambientale acquisiti dai nostri sistemi wireless presso il porto di Genova.